L'ultima apparizione sulle scene risaliva al 2008, anno di pubblicazione di 300 all'ora, il suo terzo album. Torna oggi protagonista, Luca Dirisio, e in rotazione in radio un nuovo singolo del giovane cantante vastese dal titolo Nell'assenzio. Luca Dirisio esploso all'attenzione del grande pubblico per la hit Calma e Sanguefreddo, dopo aver cambiato casa discografica, si rifà sotto con un nuovo lavoro discografico, il quarto, dal titolo Compis, che uscirà in autunno su etichetta Ultrasuoni. Il singolo, registrato interamente presso gli studi Kensal Road di Londra, è frutto della produzione musicale dello svedese Martin Terefe, che ha già lavorato con grandi nomi della musica, come James Morrison, Craig David e Train. Una chicca nel CD è presente anche un duetto di Luca con il chitarrista e cantante della storica band inglese The Specialist. Grazie a tutti.